Come è stato l'ambasciatore del Messico in Italia? 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 Anzi, mi sono anche scordato di dire che ho visitato il Museo Maxi perché abbiamo trovato il raggiunto delle accordi che adesso indicherò. Però nell'insieme la cosa importante che voglio sottolineare è che ci sono le condizioni per ricevere una visita del Presidente della Giunta regionale, del Presidente Marsilio in Messico, che speriamo si possa fare perché credo convenga entrambi le parti. Al Messico che ha voglia di fare molto di più con l'Italia di quanto già facciamo, che non è poco. Però io credo che per Abruzzo, per il popolo abruzzese, per gli imprenditori, per gli accademici, per gli artisti, il Messico rappresenti una buona opportunità. Quindi faremo l'organizzazione che ci deve essere prima di una visita ufficiale in maniera tale che sia produttiva e che sia importante. Dal punto di vista academico, parlando col magnifico rettore, abbiamo proposto di creare la Cattedra a Mexico su un argomento molto specifico. E per Cattedra intendo una specie di gemellaggio fra l'Università dell'Istituto dell'Aquila e una università messicana che sarà identificata. Però la Cattedra avversa su i disastri naturali. Lo spunto è stato quello dei terremoti, perché purtroppo abbiamo questa triste coincidenza all'Abruzzo, l'Aquila e il Messico, che è un paese che spesso è colpito, come voi, dai terremoti. Ovviamente storie brutte, però bisogna imparare a prevenire e poi a reagire nel miglior modo possibile. Per questo si è suggerito di indirizzare questa Cattedra su questo argomento. Credo che sarà una cosa utile, si può fare e spero anche preceda questa proposta, la visita in futuro del rettore dell'Università in Messico e viceversa, il rettore dell'Università Messicana scelta che possa venire qui all'Aquila. Dal punto di vista degli imprenditori, ho suggerito, e credo sia colto bene il mio suggerimento, che si faccia un seminario imprenditoriale con la massima rappresentanza degli imprenditori abruzzesi sul nuovo NAFTA. Su questo accordo di libro di scambio che collega il Messico, gli Stati Uniti e il Canada, che ci tengo a ricordarlo, è il mercato regionale più grande del mondo. Lo scambio Messico, gli Stati Uniti e il Canada più grande dell'Unione Europea. Il Messico è il primo socio commerciale e economico degli Stati Uniti a livello mondiale. Questo va sottolineato. Più della Cina, ben avanti dalla Germania o dalla Francia o da tanti altri paesi o dal Giappone. Il Messico è un paese che va visto da un'ottica economica diversa e poi è la porta di ingresso per la Nord America. Il Messico è Nord America, ci tengo sempre a ripeterlo. Il Messico non è Sud America, non è Centro America come si insegna nelle scuole europee. Quindi questo va capito e per questo mi sono permesso di suggerire, di tornare, quando voi sarete pronti, o da solo, oppure con i colleghi, statunitense e canadese, a spiegare agli imprenditori locali cosa significa questo nuovo nafta ben diverso di quello del 1994, che era ormai datato. E infine al Museo Maxi, che complimenti, perché è una bellissima struttura, ho visto anche delle esposizioni lì, mi sono permesso di suggerire, di portare qualcosa di importante, di arte messicana, che come l'Italia siamo forti, siamo potenze artistiche, quindi pensiamo che nel 2023 possiamo fare una proposta importante di un'esibizione artistica presso Maxi, oppure, se si vorrà suggerire altre alternative, saremo pronti a considerarli. È un riassunto quello che faccio, perché veramente si è parlato di tanto, sono stati tanti gli incontri fatti, però torno a Roma soddisfatto e con un vivo ringraziamento alle autorità, perché veramente sono stato ricevuto molto bene. Il trattamento che ho ricevuto veramente mi ha fatto sentire al mio agio, assolutamente. Vogliamo ricambiare, quindi io spero anche di ricevere in ambasciata a Roma e a Città del Messico le autorità che appunto mi hanno trattato in una maniera straordinaria, squisita, e voglio ricambiare.